Io, al Natale, al Capodanno e al fatto di dire tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno, ci tengo moltissimo e non si devono toccare queste cose, oh! E quindi lo dico, il Natale, il Capodanno e il fatto di dire tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno non vanno a bolete, se no la vita non ha senso, ecco!